Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla prima edizione di Calabria News 24, informa i principali titoli del nostro telegiornale. Ancora incertezze sulle candidature alla presidenza della regione Calabria, sequestrati beni ai fratelli Antonio e Cesare Muto, celebrati a Catanzaro i 30 anni della Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, partecipazione a Cosenza per la Santa Messa in occasione della Virgo Fidelis. Apriamo dunque con la politica a poco più di due mesi dalle elezioni regionali, resta grande incertezza sui nomi dei candidati a presidente. E' ormai certa la data del voto, ovvero il 26 gennaio, ma resta ancora totale incertezza sul nome dei candidati in entrambi gli schieramenti e la situazione delle ultime settimane non si è sbloccata, anzi forse si è decisamente complicata. Le certezze sono i nomi di Carlo Tansi e Giuseppe e Nucera che prenderanno parte alla competizione. In casa centrosinistra invece il Partito Democratico resta spaccato, ma la novità è che continua a collezionare dei no, da Callipo a Rubettino, ma anche da parte dei possibili alleati, ovvero il Movimento 5 Stelle, che dall'accanto suo non ha ancora sciolto le riserve, ovvero se prendere parte alla tornata elettorale o viceversa non correre proprio. Ma nel caso in cui i pentastellati saranno nella partita, anche in questo caso non si sa con quale candidato. Alla finestra il governatore uscente Mario Liverio, con gran parte del PD calabresi che vorrebbe una riconferma. Nel centrodestra invece la scelta aspetterebbe a forza Italia, ma l'impressione è che tutto dipende da Salvini. L'idea è quella di esprimere un candidato unico, ma dovrà essere una persona ben accetta da tutte e tre le componenti. Su Mario Chiuto non è stata raggiunta l'intesa, i nomi che circolano ora sono quelli del fratello Roberto e di Sergio Abramo, ma ancora tutto può accadere. Passiamo alla cronaca. Reggio Emilia, Parma e Crotone sono queste città i tre vertici del triangolo al centro dell'operazione coordinata dalla DDA di Bologna con Beatrice Ronchi ed eseguita dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Modena. Il risultato dell'indagine è un provvedimento di sequestro d'urgenza di beni mobili ed immobili per un corrispettivo di 9 milioni di euro riconducibile ai fratelli Antonio e Cesare Muto di Gualtieri. Vediamo. La DDA di Bologna ha emanato un decreto di sequestro di beni nei confronti dei fratelli Antonio e Cesare Muto. Sono stati i carabinieri del ROS e del comando provinciale di Modena a dare esecuzione al sequestro di beni per circa 9 milioni di euro. Antonio Muto era stato già condannato in primo grado nel complesso procedimento giudiziario denominato Emilia per i reati di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti i fratelli Muto appartengono al circuito economico relazionale della drangheta emiliana e dalla cosca Grande Arachi di Cutro. I fratelli Muto altresì sono imprenditori nel settore della logistica e dei trasporti. L'operazione che ha portato al sequestro trova la sua radice in quella che fu definita operazione Grimilde ed è stata condotta nelle province di Reggio Emilia, Parma e Crotone ed ha riguardato beni immobili e mobili per un valore stimato in 9 milioni di euro ed intestati proprio ai due fratelli Muto. Cambiamo argomento nella città di Crotone. Il Comitato della Magna Grecia ha presentato un progetto per creare l'area vasta della provincia crotonese. Possiamo dire che questa proposta che oggi è stata presentata è una proposta che interessa i crotonesi? Direi di sì, c'è stata una notevole affluenza, interessati anche molto ai temi che stiamo trattando, cioè la possibilità di poter avere questo nuovo ente d'aria vasta che andrebbe ad assemblare due territorialità creando comunque una provincia che avrebbe numeri e vale per poter giocare alla pari con altre territorialità calabresi. Quindi un discorso di equità, probo e possibilità di riottenere quella dignità perduta che per troppo tempo forse probabilmente non abbiamo considerato ed è venuto il momento di capire che dobbiamo essere alla pari degli altri. Sono tanti i relatori ma dobbiamo dire che c'è la voglia di scoprire una realtà diversa, quindi noi parlavamo di fare sistema, oggi si può già pensare un passo in avanti? Bisogna fare rete, bisogna fare rete perché comunque quello che ha limitato anche molto questi territori è stato un discorso di acceso localismo che è un po' diffuso in tutto il sud Italia, particolarmente sulla zona ionica forse perché comunque il concetto della Magna Grecia era veramente presente al di là del nome utilizzato, forse in maniera algermente abusata perché non siamo solo noi la Magna Grecia ma sicuramente siamo il territorio più rappresentativo della stessa. Però mettendo da parte questi localismi creando proprio il rapporto di fare rete ma lo si può fare sulle infrastrutture, lo si può fare sulla portualità, lo si può fare su mettere insieme un aeroporto come quello di Sant'Anna e il nodo ferroviario di Sibari, creare valore aggiunto, creare valenza a quello che già abbiamo a saldo zero per lo Stato è un investimento per lo Stato, è un investimento per questa terra, è un investimento per la Calabria. Ci spostiamo a Catanzaro dove sono stati celebrati dall'UNICEF i 30 anni della Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche a Catanzaro l'UNICEF celebra la giornata mondiale dell'infanzia, la data scelta il 20 novembre è infatti il giorno in cui l'ONU ha approvato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che nel 2019 compie 30 anni. Una ricorrenza importante a fronte di una situazione ancora difficile se si pensa ai 760 milioni di ragazzi che hanno bisogno di alimenti, di cure mediche, di scolarizzazione per non parlare dei casi relativi alle spose bambine, ai bambini soldato ma anche a cuore di sfruttamento. La Convenzione internazionale per prima ha trasformato completamente la cultura dei minori passando da una considerazione del bambino e della bambina come destinatari di attività assistenziali, di educazione eccetera a considerare il bambino e la bambina soggetti di diritto, quindi con una propria capacità di esprimere le opinioni e di partecipare quindi attivamente alla loro vita, alla vita della loro comunità a qualunque età perché in relazione alla propria maturità, al proprio percorso scolastico ogni bambino, ogni bambina, ogni ragazzo, ogni ragazza sono capaci di esprimere la loro opinione e di partecipare, di collaborare, prova ne sia per esempio l'organismo delle consulte studentesche. Le consulte studentesche degli studenti non sono altro che proprio la forma massima della partecipazione dei ragazzi alla vita scolastica ma anche alla vita della loro comunità. E poi ovviamente la Convenzione internazionale pone dei principi forti che interpellano la coscienza degli amministratori, degli stati che l'hanno firmata. Voi pensate che la Convenzione internazionale è stata ratificata da ben 196 stati, quindi quasi la maggior parte della comunità internazionale. Quindi gli stati, ratificando la Convenzione, trasformandola in legge del proprio ordinamento, hanno assunto un impegno preciso, non solo morale, che è forte già di per sé, ma anche operativo, anche giuridico, cioè di realizzare i diritti dei minori. E quindi c'è una mobilitazione a livello appunto internazionale perché questi diritti vengano effettivamente realizzati e concretamente esercitati dai ragazzi. Nella cattedrale della città di Cosenza i carabinieri hanno celebrato la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, un appuntamento consolidato e molto sentito da tutta la comunità. Come ormai consetudine, da ben 70 anni, oggi l'Arma dei Carabinieri celebra la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma. A Cosenza la Santa Messa è stata celebrata nella cattedrale della città Abruzia, alla presenza di autorità militari ed istituzionali. Per noi è una ricorrenza speciale, è sempre una grande festa che vogliamo celebrare con i cittadini, i cittadini di tutta la provincia di Cosenza, tanti sindaci ma soprattutto tante scolaresche in rappresentanza degli istituti di tutta la provincia perché siamo convinti che i valori di fedeltà incarnati dalla Virgo Fidelis poi possono essere quotidiano nutrimento per i giovani, per le nuove generazioni che dovranno prendere per mano questo paese. Questo è il vero significato di questa giornata. Infatti, come ha sottolineato il comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza e del colonnello Pietro Sutera, numerose sono state le scolaresche coinvolte in occasione di questa solenne cerimonia. A loro ci rivolgeremo per cercare di tramutare questa giornata in una vera festa di popolo in cui l'Arma e gli italiani si stringano ancora una volta. La Vergine Maria sotto il nome Virgo Fidelis in relazione al motto araldico dell'Arma fedele nei secoli è divenuta patrona dell'Arma dei Carabinieri l'11 novembre del 1949 grazie a Papa Pio XI che accolse il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'ordinario militare per l'Italia. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com Grazie e a più tardi.